All'interno delle schede anagrafiche clienti di Reedy Pro è prevista una funzionalità Google Maps che consente di avviare la localizzazione dell'indirizzo del cliente attraverso le mappe di Google. Se infatti clicchiamo sul pulsante Google Maps, Reedy Pro aprirà automaticamente la finestra del browser con l'indirizzo del cliente già localizzato sulla mappa. La funzionalità di localizzazione è presente anche all'interno di altre procedure che prevedono l'utilizzo di dati anagrafici come ad esempio nella tabella delle destinazioni alternative. È nella sezione destinazioni presente nelle anagrafiche come ad esempio quelle clienti e fornitori. Inoltre la troviamo anche nella sezione destinazione presente nei documenti. In quest'ultimo caso, se è presente una destinazione diversa, è sufficiente fare doppio clic col mouse sul campo destinazione per accedere alla scheda anagrafica destinazione dove troviamo il pulsante localizza. La funzionalità di localizzazione di Reedy Pro prevede anche una ulteriore opzione per calcolare il percorso dalla nostra sede a quella del cliente. Per attivarla dovremo prima di tutto collegare un'anagrafica completa all'azienda corrente. Dalla tabella aziende selezioniamo il tab anagrafiche collegate. Da qui aggiungiamo l'anagrafica clienti collegata che, se non l'abbiamo già fatto in precedenza, possiamo creare contestualmente. Dopodiché andiamo a selezionare l'anagrafica clienti appena creata per completare l'associazione. Fatto ciò, se torniamo all'interno della scheda anagrafica di un cliente e utilizziamo nuovamente la funzione Google Maps, troveremo una nuova opzione percorso dalla tua sede. Questa opzione permette di aprire il browser del proprio PC con il calcolo del percorso tra la sede della nostra azienda inserita in anagrafica e l'indirizzo presente nella scheda anagrafica del cliente.